Sì, mi permetto di dire che sono dichiarazioni fatte a caldo, in modo abbastanza superficiale, come reazione istintiva, perché io non vedo un ragionamento strategico dietro alla mente di questi politici. Non lo vedo. Abbiamo una Francia che fa una sua politica estera con tutti i problemi interni che ha, perché... Macron ha un sacco di problemi. Però fa politica estera. Teresa May fa politica estera. Senza convocare il Parlamento, tra l'altro. Senza convocare il Parlamento. Ha deciso, sai che c'è una polemica in Inghilterra perché non ha convocato il Parlamento. E noi poi ci lamentiamo se dobbiamo subire quello che fanno gli altri. Però le chiedo una cosa. Scusi, perché è fondamentale. Ma voi pensate, Alan, quando devi andare via...